ora mi ucciderò per causa mia mi ucciderò attenzione impressione di minecraft ora mi ucciderò con la mia spada in testa uno due tre guardate come mi sono uccido mi uccido sempre ma non mi uccido e invece no l'impressione di minecraft è mettendosi in questa posizione premendo il tasto destro del mouse come potete ben vedere si crede si pensa si vede che si stia uccidendo da solo ma invece se si allontana ha la spada e quando cammino devi camminare lento lento è come se fosse una difesa vedete con l'arco invece no ha una miglia di precisione aumentata va bene va bene va bene con questa no con questa no va bene ah si la spada va bene va bene poi con la sudiana si va bene con la spada invece si protegge bene bene ciao a tutti ragazzi se non vedete se non vedete i giochi uno slime sta venendo fuoco bellissimo uno slime dentro casa come al solito come fa dentro una coisa e l'altra cosa ho messo la cosa 8 tanto per tela non la prossima io morso quanta non riesco a mangiare sono a digiuno oggi vedete infatti la butto allora oggi ragazzi faremo finire questo slime qua dentro. Entra slime? Forza che è libero il passaggio! Quanto è una gara per me? Vabbè scurrimo a prendere la coppia. Andiamo in un passicino bello tranquillo. Facciamo un po' di roba qua? Facciamo un po' di roba qua? Perfetto. Ok ragazzi, partiamo. Vediamo che c'è qua sotto. E noi muoviamo. Ecco qua. Ok siamo rinati proprio nel villaggio. Quindi mai andare sotto il suolo nella creative. Bene ora vi saluto e ciao ciao! 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 Ciao!